stiamo arrivando alla fine di questo 2013 e allora ci chiediamo quali sono i video musicali più cliccati di quest'anno beh a dircelo sono le classifiche di vevo l'enorme video biblioteca che mette online i video musicali prodotti dalle etichette universal music group sony music entertainment e emi che sono poi le tre grosse etichette mondiali quelle sono un po più importanti vabbè comunque detto ciò siete pronti al primo posto c'è lei miley cyrus con la sua breaking ball probabilmente il video viene ricordato più per lei che è seminuda e che lecca il martello piuttosto che per la melodia della canzone ma comunque fatto stacca al primo posto c'è lei al secondo posto troviamo miley cyrus con we can stop beh al terzo posto troviamo miley cyrus no sto scherzando al terzo posto troviamo will i am con britney spears e la loro scream and shout poi diciamo proseguendo dal quarto posto fino al decimo posto non è che ci sono poi tante sorprese perché troviamo rihanna katy perry robin tickle con blurred lines naughty boy con la 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 e i one direction con kiss you soddisfatti di questa classifica qual è il vostro video musicale preferito di quest'anno ci udite